Buonasera da Edoardo Testoni, benvenuti al Palatrento per questa partita molto importante in chiave, ottavo posto, in chiave playoff tra Dolomiti Energia Trentino e Banco di Sardegna Sassari Partenza veloce di Niang, guida lui, palla fuori per la tripla ritmo, segnata da Matt Mooney Mooney, ad attaccare Jefferson, lo lascia lì, e poi segna, che giocatina di Matt Mooney Attacca a linea di fondo Capelletti, poi frena, tiene il perno, e come è uscito Capelletti Aralan Populos che si prende un tiro dalla media, lo sbaglia Alviti, subito in transizione per Preti Sabba, non la prima volta che abbiamo visto questa giocata a parte di Trento E allora ancora veloce, con Hub che va dall'altra parte, chilometri per Toto Forrai La tripla del capitano Gioppa, arriva B-Liga, ciazzato il cambio con Alviti, poi spazio per Aralan Populos Prima tripla di serata per Sassari Palleggio per Gentile Che rischia, la perde Mooney, la scippa E poi appoggia Bel canesto con recupero di Mooney Bene, nel palleggiare Mooney, Gragiolis perso, Gragiolis palleggia questo e tiro di Gragiolis Come la lascia andare Andres Gragiolis Mooney, poi Hub subito però sparare con tanta parabola Insulta anche Galbiati per come è arrivata questa tripla di Preti Sabba 8 punti in un Amen Con due triple per Hub Gentile ancora ad andare dentro, fuori Per la schiacciata Di Stéphane Gobbo Che si porta a casa il ferro del Palatrento Sicuramente continuare a difendere forte E' stata una delle chiavi, non dobbiamo molare Appena abbiamo molato, loro hanno fatto subito un break E dopo abbiamo rialzato la difesa E abbiamo tenuti lontani Quindi dobbiamo continuare così Attacca al centro Aralampopulo Stiene il perno Aralampopulo 7 a 0 timeout Gioco a due, Baldwin-Billiga Tagga sto canesto di Billiga Ferma il palleggio Baldwin Niang ha ricezione di movimento di Niang E tiene il perno Niang Baldwin 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 Sa che questo è un momento importante Alviti Chilometri Tiratore Lo segna Scappa via Trento Renzi sub Va lui a sfruttare il blocco Poi a prendersi il tino da tre Dall'altra parte Ab Dal Alviti Tripla di Alviti Segnata Prova a tornare Sotto la doppia cifra di svantaggio Sassari con il palleggio C'è il sito gentile che alza E poi Gombò ancora Sotto canestro Segnata quasi due minuti Trento Si affida a Prentissab Che sceglie un'altra volta La tripla Ha ragione lui 14 di Ab Nel momento del bisogno Ancora una volta 4 su 7 Dall'allunga Tyree Si arresta All'altezza Della linea Del tiro Dall'allunga E stavolta Lo segna Ab Attacca Si prende Tiro da tre Presti Sub E' finita Canta la sirena Ha vinto Trento 87-76 Contro Sassari I mean I can just thank my teammates Man They were getting the open shots And when I was finding them They were knocking down shots So It felt good To finally Have a good game again And get the win